La carne di un certo livello Animali che cresceranno in uno stato bravo La carne di un certo livello rinomata Fateci sapere il sapore Il maiale della casertana è un maiale che è meglio del cinghiale Questo è il superiore Il superiore del cinghiale Soprattutto per la coppata che fate voi E' una delle cose importanti delle nostre parti Abbiamo visto i loro maialini che ci hanno esposti qui in fiera Sono spettacolari Sono delle cose ottime Prima che il signore si arrabbia me ne vado Ma me ne approfitto anche io Grazie Complimenti Grazie